Dottor Zanobetti, che cosa cambia? Immagino che il cambiamento sia notevole sotto il profilo anche della capacità del pronto soccorso. Si cambia perché pur lavorando sui soliti metri quadri questa riorganizzazione logistica è diventata una riorganizzazione funzionale perché abbiamo diviso le aree ad alta e intermedia intensità, che è quella dove ci troviamo, con le aree a bassa intensità e le relativi stanze per aspettare ai pazienti. In questa zona qui, che è diventata un open space, abbiamo praticamente recuperato 8 posti letto, diciamo 8 posti di visita. Prima ne erano solo 8, noi ne abbiamo 16, quindi un raddoppio con gli stessi spazi dei posti di visita. Ma la cosa più importante è che ognuno di questi posti letto è dotato di una dotazione tale per cui noi qui possiamo gestire pazienti che vanno dai codici 3, quindi di moderata intensità, fino ai codici 1, che sono le vere e proprie emergenze. Perché ogni postazione ha le caratteristiche per poter gestire un certo tipo di emergenza. Direttore, che investimento è stato per l'azienda e poi comunque ci sarà l'inaugurazione definitiva di questo nuovo pronto soccorso in autunno? Sì, volevamo mostrare alla città l'avanzamento dei lavori sul pronto soccorso e su tutta l'area critica del nostro ospedale San Donato. Si tratta di un investimento importante di circa 3 milioni di euro da fondi nazionali, il cosiddetto DL34, a cui si aggiungono al momento 600 mila euro di ASL Toscana Sud-Est da bilancio, perché crediamo che questo pronto soccorso sia essenziale nella rete ospedaliera della Sud-Est e per tutta la provincia di Arezzo. Questo è il motivo per cui costituisce oggetto di finanziamento e di investimento, non solo in termini di risorse economiche, ma anche in termini di risorse umane per quello che è possibile, vista la carenza di medici, soprattutto nell'area dell'emergenza. Ecco, l'ha toccato da sé questo punto. Insomma, c'è stato tra l'altro anche un incontro proprio con i sindacati recente in prefettura. Sotto questo profilo cosa si può fare? Il confronto immagino che sia sempre attivo. Il confronto è sempre aperto, è chiaro che in questo momento viviamo una condizione di maggiore difficoltà per il godimento delle ferie e perché, nonostante quello che si possa immaginare, la pressione negli ospedali subisce poco le modifiche climatiche e poi anche quando le subisse abbiamo sempre il movimento dei turisti che è da tenere in considerazione, che è un settore che va presidiato. Il confronto è aperto, le assunzioni ci sono. È chiaro che qualche volta andiamo un po' sotto rispetto allo standard, ma questo è legato non tanto alla volontà dell'azienda quanto alle dinamiche tra la cessazione dagli incarichi e l'immissione di nuovi professionisti. Ma è fisiologico in un'azienda di queste dimensioni. Grazie.